Sono i corsi d'acqua, ancor più del rischio smottamenti, a preoccupare in queste ore in Alto Adige. Sotto osservazione fiumi e torrenti un po' ovunque. Le immagini che vedete si riferiscono alla confluenza tra Talvera e Isarco nei pressi di Ponte Druso a Bolzano. Il Comune è stato costretto per motivi di sicurezza a chiudere con delle transenne l'adiacente pista ciclabile. Stamani la Protezione Civile ha convocato un vertice. È stato disposto l'attento monitoraggio di tutti i corsi d'acqua per l'elevato rischio di esondazione. Attualmente lungo il fiume Adige abbiamo raggiunto il primo livello di attenzione, cioè il livello dove noi attiviamo il servizio di piena. Apriamo la centrale di piena, facciamo la copertura degli appostamenti con i vigili fuoco e anche le centrali operative di vigili fuoco in bassa tesina sono state attivate. Vale solo per la bassa tesina perché nella parte alta dell'Adige la situazione si è un po' stabilizzata e i livelli si stanno leggermente abbassando. Anche in funzione delle previsioni meteorologiche quali sono i rischi di esondazione attualmente? Ma attualmente lungo l'asse dell'Adige non ci sono rischi di esondazione, c'è una probabilità che si raggiunge il livello di guardia e una volta raggiunto il livello di guardia controlliamo meglio gli argini perché possono esserci dei fontanazzi, possono esserci delle situazioni dove magari l'argine ha dell'instabilità e per cui si controlla. Una probabilità di esondazione se gli argini tengono c'è attualmente. In bassa tesina è scattato il livello di preallarme per la situazione dell'Adige. Alle 10 di stamani il fiume Aora ha raggiunto i 5 metri che rappresenta appunto l'inizio dello stato in cui il corso d'acqua va monitorato nei tre punti di osservazione che sono Bronzolo, Egna e Salorno. Se l'acqua dovesse salire di altri 30 centimetri scatterebbe il primo livello di allarme che farebbe entrare in azione tutti i corpi dei vigili del fuoco della zona. Intanto è straripata la fossa di Bronzolo, il canale parallelo all'Adige. L'acqua ha invaso i meletti nella zona denominata Mitterling tra Bronzolo e Ora. I pompieri sono intervenuti con sacchi di sabbia a rinforzare gli argini. C'è apprensione per la presenza di due masi a poche decine di metri dallo straripamento.